La San Giovannese 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 Vediamo che non sia quella buona adesso La posizione Parte De Gori Molto buono E qui Rete Rete Pippo De Gori Esplode Il comunale Di Tavarnelle San Giovanni Che rimette in sesto la partita 2-1 Punizione pazzesca Alla trentatresimo Prova a reagire il Sandonato Muscas Dice no Al pareggio Alla trentaquattresimo Espulso Calderini Che secondo l'arbitro Si era allontanato troppo Dalla propria Area di competenza Salterà come Romanelli La sfida del Fedini Contro il Porta Romana Alla trentaseiesimo De Gori Prova a chiudere l'incontro Ma Licciardi Si distende bene Sulla destra Lotta assidua fino alla fine Ma poi Arriva il triplice fischio Che sancisce La prima vittoria In campionato Della Sangio Tre punti conquistati Con il cuore Che probabilmente Potrebbero far svoltare La stagione Dei Biancoazzurri